fondina gs06 della defcon 5 fondina professionale costruita con materiali di elevata fattura e di buon livello questa fondina è cosciale ed è fatta per pistole di grosso calibro e per cui è come taglia una large out e infatti andiamo a vedere che è adeguata per la glock per la beretta 92 con 98 colt 45 sig sour e tutte le similari queste sono quattro tra le più grandi per cui e più note pistole qui abbiamo un sistema di ritenzione a velcro regolabile in altezza e infatti quando si sistema la pistola viene chiuso da questo bottone automatico si regola l'altezza e si chiude tramite questo bottoncino automatico l'apertura è di tipo rapido con pollice che preme e estrae la pistola davanti troviamo un portacaricatori per il caricatore secondario velcro regolabile in altezza e agganciabile a qualunque tipo di cinturone in quanto velcrabile la regolazione in altezza avviene tramite questa parte velcrata che si può modificare a piacimento sul retro notiamo due cinghiette regolabili gommate antiscivolo velcrate anche queste per cui si possono anche togliere o usarne una sola qui troviamo un sistema interessante di retenzione della pistola e la un elastico che va a bloccarla per evitare le fuoriuscite accidentali qua giù c'è un nodo e si può regolare anche la da serrar serrarlo in maniera maggiore nella pistola è compresa una fascettina una linguetta in plastica per modellare e spostare i velcri e poi questa viene tolta colore vegetato e solo destra solo per destri purtroppo non ci sono versioni sinistri